Yo, mister, eccoci qua con story about my uncle Continuiamo questa avventura Sì, siamo rimasti in questo villaggio Mega... Grande, enorme, svolazzando, lucicoso Storie così Sì, sembra molto interessante Ok, ho capito che qua il computer mi darà problemi Sì Come, come... Eh sì, che cavolo Non sento niente Ora sento qualcuno Ok, sente qualcuno giocare vicino Chi è che sta giocando? Chi? Nessuno deve giocare qua! Io sono il più forte No Ok, non vedo nessuno che sta giocando qua Andiamo a cercare la persona che sta giocando Sempre se sta giocando qualcuno, io non lo so Sta giocando qualcuno o non sta giocando... Lui dice che sta sentendo... Sì, io... Che cavolo di rumore è questo? Qualcuno che sta giocando? Ok Iniziamo con i problemi Tipo mouse che si incastra e computer che mi lagga? Va bene, dai, non fa niente Laga solo se guardo là Eh, guarda tutta la grafica che ha bisogno Poi con fraps Poi la chema accesa What the fuck? Non sono stato io Giuro Che cavolo ho schiacciato per farlo Eh, devo per forza fare tutta questa strada così? Ma what the fuck? Cioè, oggi funzioni bene mouse, eh? Neanche... Neanche ti ho sfiorato già lanci le corde, oh Ho capito, non devo toccare il mouse, sai che cavolo Andiamo a vedere Cosa c'è qua? Qua Qua non c'è niente Ci manca solo un orbe Ci manca solo Oh Funghi Funghi che lucicano Sono funghi questi? Una cascata What the fuck? What? Che? Un monster! Siamo fusi! Sì, dice un mostro a me Ma ti sei visto in un spicchio? Sì, sei un monstro? Quale tipo di creature sei? Mi nome è Oliflame Che cavolo sei un avatar? Allora deve essere qua mio zio Ok E così Io dovrei essere tipo Così sì Così sì 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 Sembrano molto gentili e storie così Però sono sempre delle creature strade Ricordatelo Cioè Per questo qua so Ok Che cavolo devo fare io? Per lui posso sembrare un tipo Un Come si dice? Ecco qua Che non riescono le parole in italiano Oh Ok E ora? Che What? Ok 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 Ho capito Ho capito qua che devo fare Sì Wow Qua tipo 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 No! Oh fuck Sì Abbiamo capito Sto cadendo Oh Che cavolo Allora di nuovo Dovrei fare tipo Asco Vai a fare la cacca eh Ma vuoi crepare un po' più in fretta? Cioè Mi sta di nuovo venendo il nervoso Ce l'ho fatta Ma intanto bisogna sforzarsi un po' Sto ancora cercando la parola che voglio dire Però Non mi esce Non c'è niente da fare Allora Vediamo 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 Dovrei fare così Wow Sì L'unica cosa che so fare bene è sbattere la testa dappertutto Ok Non ho capito niente dove sono Ok Bene Qua dovrei Ci dovrebbe essere mio zio qua Ha detto Oh shit Ma che cavolo ti permette a fare questo? Queste cose ora Dovrei Ok Bene Facciamo Sicuro ci sono altre creature così? Che cavolo sta succedendo? Stare calmo Stare solo Calmo Dai che Ah Grande Però Non c'è nessuno qua Dove sono tutti gli altri? Dove siete creature mostricciatoli strani così blu che assomigliano a quelli di Avatar? Sì stavo per cadere Oh Oh c'è proprio tipo un villaggio eh Proprio con le casette C'è qualcuno? Posso? What the fuck Ok non c'è nessuno Bene Sono il nuovo arrivato Ma che cavolo? Ma che cavolo? Pensavo che lo fanno tipo una festa per me Per il nuovo arrivato Così Non c'è neanche Ma questa musichetta? Ok No Ti devo acchiappare Ti devo avere Oh cavolo È nudo? Se What the fuck? Ok vabbè Non li posso catturare Dove cavolo dovrei andare? Ha qualcuno un'idea? Ah aspetta Mi ha detto di dire Guarda c'è un altro lì Oh mi sono appiccicato alla sua faccia Posso? Ah no Ok non è la sua Eh basta volare Oh guarda Guarda Si raccontano storie tipo Che cosa avete da raccontare? No Non vi sento Non vi sento Se ti togli forse questo coso dalla bocca Ti potrei sentire eh Niente Non Guarda sto bruciando Sto bruciando Eh? Eh? Sto bruciando Che avete da dire adesso? Eh? Sto bruciando Dov'è te? Cioè non mi cagano neanche se io brucio Assurdo Allora dovrei andare Ha detto Vai nell'albero gigante Ma che cavolo fai? La smetti di sparare le corde qua? Allora Albero grande Ma dove sei l'albero? L'albero grande può essere dappertutto Oh guarda i funghi Ok non sono funghi Sono delle piante Strane Cioè oh io non ci sto cappendo niente No dai Non può essere vero Pensavo di finirlo oggi il gioco Ma io Che? Ma Dove? Oh che rumore ha questo? Oh la pietra mi ha spaventato Ha detto albero grande Io alberi grandi Non ne vedo Cavolo Se io salgo qua su Tipo all'assassin's creed No Niente No Ok dovrei forse Continuare qua Vediamo Che dovrei fare io? Albero grande Sto cercando l'albero grande Non vedo nessun tipo di albero grande Io Oh Cosa c'è lì? Segreti? Ci sono segreti? Ok è un episodio che potrà durare un bel po' questo Io tanto non muoio Posso buttarmi dalla terza Dalla terza che vuoi o io non muoio Vediamo Tipo Ok ho fatto una gran cagata No? Ok non ho fatto nessuna cagata Ok Non vedo niente Forse mi sa che questo pezzo lo taglio A tra poco Bene Sono arrivato fino alla cima Ha durato un pochettino Però vabbè ce l'ho fatta Se volete davvero saperlo Non c'è niente qua sopra Cioè io ho fatto tutto questo casino per cosa? Per cosa? Cioè Che cosa dovrei fare io qua su? Dove devo andare? Io provo a inseguire quei cosi eh Io ci provo Vediamo Forse ci sono segreti Del tipo Yeah yeah Aia Sì e adesso? Sì ma io Guarda Cosa c'è lì? Ok mi manca il terzo Ciao 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 bellissimo mondo Ciao Vai a fare la cacca Ok bene Per venire qua è ancora troppo presto Allora Uh è vero possiamo Oh guardate adesso Oh shit che scemo No 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 Ho sbagliato ho sbagliato Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace No 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 e che cavolo aspetta aspetta forse posso fare qualche cagata facciamo il tipo da qua da qua oh yeah cosa c'è lì? ah da lì sono venuto ah ecco dove l'albero eccomi qua sono arrivato si questo è l'albero grande dovrebbe essere ah molto il vecchio del villaggio non faccio il tempo a leggere cosa? ok ma quali dei dei sopra? attendi noi siamo siamo oh ci sono mostri ok si tratta di mostri e statue che tengono lontano i mostri in una caverna storie così non ci sto capendo niente perché è troppo veloce sembra che posso aiutare me stesso e questi erano trovando un mio amico sai cosa? posso mostrare dove il caverna seguimi oh yeah grazie se non ti trasporti riesco a seguirti ok? come hai fatto prima cioè ti sei buttato giù non so come cavolo hai fatto sei sopravvissuto e ti ho visto all'improvviso qua cioè mi spieghi come cavolo hai fatto chi è il tuo maestro? chi è? what the fuck? no devi prima rispondere le mie domande e poi te ne puoi andare ma come cavolo corri? cioè ti stai tipo dando calci in culo per andare più veloce è anche un modo darsi calci in culo da solo sì lo faccio anch'io sempre oh guarda ma io qua c'ero già amico va bene si sta dando davvero il calci in culo oh mio dio che creature strane che siete bellina questa musica sì? mi piace oh potresti fare un po' più veloce cavolo dai su più veloce vuoi che ti do anche io qualche calcio in culo così fai più veloce? ascol io io cerco di superarti ok? fa ti ho superato e adesso che vuoi fare? e adesso ti ributti giù il titolo ah c'ha una barba zio sei divertente sei divertente da solo non ho tempo giusto po' dire io you could exist don't see turn just right you live upside down i'm not strange pd ah ecco lo sapevo che lo rifacevi l'avevo detto io dall'inizio ok perfetto che cavolo dovrei fare andare di nuovo ciucco le pietre simone ok guardiamo ben lo schema come questo mi porta lì poi quell'altro mi porta in fondo e io mi perdo bene pietra portami a ciuccio ora non ho idea dove cavolo andare ah quell'altra pietra che mi porta pietra mi dovresti portare non ci credo sono davvero finito di nuovo qua va bene vuol dire che devo fare un altro taglio ciao miau e adesso ok rieccoci qua che cavolo devo oh shit sto per fare un'altra cagata allora ho scoperto anche poco fa che non è questa la pietra ma è questa quella giusta sì ma dai non sono così bravo io col mouse e che cavolo oh ma assurdo ma assurdo ah tra poco e rieccoci qua non ce la farò neanche questa volta me lo sento oh 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 ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ora non mollare ma o stai il cavolo per favore adesso che cosa 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 devo fare scusa devo farmi lanciare tipo lì in fondo così spatapeng del tipo sto arrivando ok 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 stanno andando bene stanno andando bene sono arrivato cioè voglio dire sono atterrato ok vediamo un po' dove cavolo devo andare io adesso facciamo tipo andiamo più veloce devo inseguire quella pietra cioè io qua aiuti proprio non ne ho devo ah ok bene spero che è un checkpoint questo del tipo se io muoio oh pietra portami a ciu ciu come fai sempre tu dove cavolo dovrei andare scusa oh cosa c'è lì? segreti? ci sono segreti? yeah quasi ma dovrei scendere ora what the fuck scusa no no non lo so devo andare lì giù? devo andare lì giù davvero? davvero? perché non so dove cavolo devo andare io vado lì giù? non c'è nessun problema ci vado pesce? 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 cioè guarda 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 ah che culo ceo prossimo pesciolino ok questa volta senza problemi bam proprio oh no oh shit forse ok sì ero giusto bene e ora dove cavolo ah ok entriamo dentro la grotta prendimi spero che non incontro mostri come ha detto quel tizio lì perché lottare non so se riesci a lottare questo qua guarda grande vieni qua che so fare? posso fare tipo tre oh oh posso notare oh shit wow sono sott'acqua in un certo senso ora ho capito quello che posso fare posso grapparmi tre volte ora so dove devo andare pensavo che era tipo un teletrasporto invece è vero che ci sono dappertutto e ora? ora che ho il terzo grappatore dove ok devo risalire sopra quella montagna ah ok il simbolo mi dice di andare qua io mi grappo qua allora io salto così bene dopo questo rutto ora inizia il bello homies ora inizia ora inizia la vera e propria avventura prima non era un'avventura no what the fuck dai 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 c'è anche il terzo c'è anche il terzo funziona bene funziona bene sono contento eh eh devo fare tipo così eh ok 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 l'ho fatto proprio senza saperlo oh shit diventa sempre più di compli guarda guarda ci ho fatta colpirlo ce l'ho no 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 compiute non farmi no no non lagare non lagare non lagare non lagare sto ops colpito il microfono dai scu cioè non posso mollare così devo finirlo tutto adesso perché sennò devo rifare tutto perché non what the fuck mi sto facendo mi sto facendo incavolare molto ma molto pittà ti vedi il cavolo dai dai tipo le scimmie e ora andiamo qua andiamo a fare gli scemi oh what aspetta 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 oh no qua devo essere talmente veloce ok vediamo cosa posso fare ma ma che ma ceo siamo arrivati ai livelli di di spettacolo assentment qua eh e ora e ora sono nella cacca ah no ok va bene più o meno forse dovrei oh guarda guarda c'è una pietra lì ma forse ho fatto davvero una gran cagata non dovrei forse o forse sì o questo è il modo giusto e questo è il modo giusto il modo modo giusto wow sì era il modo giusto infatti era questo e ora dovrei andare qua e ora qua e ora la qua c'è mi sto per incavola what the fuck ma qua che va male il computer cosa c'è lì una fontana posso ti oh la smetti smettila non la smette bene mi dispiace ok lanciamo tipo 50 centesimi e posso esaudire un desiderio vorrei trovare mio zio senza più continuare il gioco no scherzo il gioco è bello lo voglio continuare e ora che dovrei fare c'è tipo ma si muove si si sta muovendo ok colpito si è ora si è ora è ora è ora è ora devo fa oh what the fuck ah ok bene ok per favore sali su sali su sali su fammi questo piacere ah si chiama olifling ah si chiama olifling ah si chiama olifling se vuoi andare da qui ogni volta ti ho avuto un posto al top of the mountain ora devo risalire lì su e cercare il il flem d'olio come si chiama l'olio flemino quello che è eh homies tanto sono risalito tanto sono già salito su quella montagna direi a più tardi wii 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 non era molto un gioco per un uomo sì sì ma ho pensato che era un buon posto guardare quando ti volevo essere soli credo ok ci siamo quasi homies anzi ci siamo oh shit oh che figura di caca avrei fatto se non ce l'avrei fatta e siamo di nuovo qua sopra la montagna e io direi di fare così oh shit certo forse forse è un cavolo ma vuoi cadere più in fretta oh ciao homies ciao ciao non Grazie a tutti.